La Scuola Dille sta riflettendo con le varie parti in causa su quella che è la realtà che la coinvolge, cosa sta emergendo? Sta emergendo sicuramente che la situazione è drammatica anche per il settore delle costruzioni, però per noi questa è l'occasione giusta per dare il nostro fattivo contributo al settore, quindi permettere al settore di riqualificarsi, agli operatori che ci stanno dentro, alle aziende e ai lavoratori, di riqualificarsi e quindi nel momento in cui ci sarà una ripresa vera saremo pronti a questa nuova sfida che ci attende. Queste giornate sono state importantissime perché ci hanno consentito di apprendere le esperienze degli altri paesi europei, ma soprattutto di far conoscere anche le nostre potenzialità. Ormai in un mercato globalizzato come quello attuale è chiaramente importantissimo questo scambio di esperienze che ci permette appunto di non rimanere nel nostro piccolo ma di ampliare le nostre professionalità.